E c'è la commerciale, città delle stelle, il buon suono, Jay Oxen! E c'è la commerciale, città delle stelle, il buon suono, Jay Oxen! E c'è la commerciale, città delle stelle, il buon suono, Jay Oxen! E città delle stelle, il buon suono, Jay Oxen... E città delle stelle, cerchere i colleghi, e come chiede me freta queste come figli, «Cosa succede?» Avete visto tutti quelli con la bandiera, con la pashmina, tecnicamente ma la mettono a mo' di tanti a mo' proprio di cheffia, quindi sembra quasi uno state ma in politico in realtà non lo è, vuol dire che hanno preso l'upgrade e l'upgrade praticamente è come quello che quando vai alle montagne russe salti la fila, passi prima. Quindi tutti quelli che hanno l'upgrade verranno qui e faranno una foto con lo zio e gli firmerò il disco. Se avete una domanda da farmi, qualcosa, anche di matematica, robe così, ce la metterò tutta, però non preoccupatevi perché finiti quelli con l'upgrade, ci sarà tempo per fare la firma sul disco a tutti quelli che ce l'hanno, è una foto e io non me ne andrò, perché l'ultima persona avrà avuto la foto sul disco, la foto e l'autografo sul disco, quindi tranquilli. Adesso però facciamo il mio ultimo singolo e sto facendo una gara fra tutte le città, tutti i centri dove sto andando a presentare il disco perché poi alla fine vedremo quelli che lo sapevano di più e quelli che l'hanno cantato meglio. Comunque stasera poi vi vedrete sul mio Instagram, quindi non vi dico niente, eh? Vediamo se la sapete, vai! Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo Corre P, più che una rubrica avevo una playlist e pompavo in discoteca e macchina tutto. Io ragazzi inizio perché siete tantissimi, grazie mille per il calore, grazie davvero. Spero di aver sonato bene. Allora, sempre orgoglioso di essere uno di voi, facciamo prima gli upgrade e poi tutti gli altri della mia età, eh? Quindi mi seguono, mi seguono da tanto. Lo stavamo notando prima, intanto che ti aspettavamo i bambini piccolissimi che cantano con un sonno di sostituzione. Obbligati dai genitori. Tanti magari nanti proprio sulle note delle due canzoni qualche anno fa, assolutamente. Tanti più bimbi che vengono qua vestiti e prontissimi per accoglierti. È una figata quello che hai fatto, hai fatto un regalo bellissimo. Guarda, e loro fanno un regalo a me comprando il mio nuovo disco, quindi siamo pari. Bella lì, grazie a tutti, grazie a Città delle Stelle per l'ospitalità. Adesso mi metto qua come un bravo bambino a scuola e vi faccio tutte le firme che volete, tutte le foto che volete, ok? Grazie mille, grazie a te, grazie a tutti. Grazie a tutti.